Quando i compagni dicono basta, basta, Tato invece aveva cercato di suscitare un applauso per incoraggiarla. E' vinto, è vinto, è vinto, è vinto, è vinto! Quando ho visto che veniva portato giù dal palco ho capito che c'era qualcosa di molto molto grave. La manifestazione è conclusa! Il ricordo è una presenza fitta ma silenziosa. Quella che era una piccola folla è diventata in pochissimo tempo una moltitudine di persone. L'onorevole signorico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45. La gente lunga il percorso, piangeva, vuoto incolmabile. La cosa che ci univa era che percepivamo insostituibile Enrico Berlinguer. che succede la seguente della scena! Spravo! 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 Grazie a tutti.